Oggi tutti insieme cercheremo di imparare come fanno per parlare tra di loro gli animali Come fa il cane, il gatto, l'aninello, la mosca, la rama, la pecora e il coccodrillo E il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa Si dice mangi il gatto, non metta mai il cattoppo, che con i venti funga, che molto spesso pionga Però quando è tranquillo come fa il coccodrillo, il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa, si arrabbia ma non strilla, sorpeggia camomilla e mezzo addormentato se ne va Guarda sui giornali, non c'è scritto niente, sembra che il problema non importi alla gente Ma se per caso al mondo c'è qualcuno che lo sa, la mia domanda è ancora questa qua Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa Si dice mangi il gatto, non metta mai il cattoppo, che con i venti funga, che molto spesso pionga Però quando è tranquillo come fa il coccodrillo? Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa Si arrabbia ma non strilla, sorpeggia camomilla e mezzo addormentato se ne va Adesso ripetiamo se vogliamo ricordare come fanno per parlare tra di loro e gli animali Come fa il cane? E il gatto? L'asinello? La mossa? La rama? La pecora? E il coccodrillo? E il coccodrillo? Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa Si dice mangi il gatto, non metta mai il cattoppo, che con i venti funga, che molto spesso pianga Però quando è tranquillo come fa il coccodrillo? Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa Si arrabbia ma non strilla, sorpeggia camomilla e mezzo addormentato se ne va Avete capito? Come fa il coccodrillo? Lui mezzo addormentato se ne va